Seconda visita a Molisana della ministra Boschi, ieri a Capobasso, per spiegare le ragioni del SIA al referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. Lavoratori dell'azienda Trasporti Molisana in presidio questa mattina presso la prefettura di Capobasso per reclamare i mancati pagamenti delle dovute retribuzioni. Buone notizie per gli studenti della scuola San Giacomo degli Schiavoni che dal prossimo anno potranno soffrire di un edificio scolastico nel loro paese, senza sottoporsi allo stress del viaggio. Oggi inoltre è l'inaugurazione del polo intercomunale a Castelpetroso. Schiacciante sconfitta casalinga del Capobasso con il San Nicolò Teramo, mentre al Civitelle si festeggia e Granata confermano la loro posizione in vetta alla classifica del campionato di Serie D Girone F. Un saluto a tutti i nostri telespettatori e ben ritrovati con informazioni di Molise TV. In apertura oggi parliamo della seconda visita molisana della ministra Boschi, ieri a Capobasso, per spiegare le ragioni del SIA referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. Sentiamo il servizio. Una folta platea ha accolto ieri pomeriggio nella sala della Costituzione della provincia di Campobasso la ministra per le riforme costituzionali e di rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, intervenuta ad un incontro promosso dal Comitato del SIA al referendum costituzionale il prossimo 4 dicembre dopo una tappa mattutina a Lecce. A darle il benvenuto il presidente della regione Paolo Di Laura Frattura, il vicepresidente Vittorino Facciolla, l'assessore Carlo Veneziale, la segretaria regionale del PD Micaela Fanelli, la deputata termolese Laura Venitelli, la vice sindaca di Campobasso Bibiana Chierchia. La ministra Boschi è scesa dall'auto intorno alle 18.20, per lei è la seconda volta in Molise in questa campagna referendaria, è stata a Termoli nel mese di luglio, che sta entrando nel vivo all'insegna anche in Molise come del resto dell'Italia di polemiche che vedono spaccato anche lo stesso Partito Democratico. Non voglio parlare delle ragioni del no, è comprensibile, ha detto ai microfoni dei giornalisti, motivando le spaccature interne nel PD, che su una riforma tanto complessa ci siano posizioni differenti, ha continuato la Boschi, ma è importante cercare di non personalizzare questo referendum o parlare delle sorti del governo. A domanda precisa riguardante l'autonomia delle regioni, la ministra ha puntualizzato che questa riforma rivede le competenze senza toccare i confini, e non è un caso che Frattura e tanti consiglieri regionali si siano schierati a favore del sì. La ministra ha poi specificato che le autonomie locali non verranno toccate e dovranno esserci regole uguali per tutti, a cominciare da sanità e lavoro, ma anche i costi dovranno essere uguali. Sul titolo quinto, dopo le modifiche di 15 anni fa, si è creata confusione. Nei 12-18 mesi in cui la Corte Costituzionale deve decidere su conflitti, si blocca tutto. Quanto ai tempi che si risparmieranno, la Fanella ha specificato, abbiamo analizzato le leggi approvate negli ultimi tre anni. Il 97% di queste, quella riforma, non avrebbe avuto il doppio passaggio Camera-Senato. La Boschia poi ha chiuso il suo intervento di circa 20 minuti con un mezzo slogan. Il futuro ce l'hanno già rubato abbastanza nel passato. E ha invocato il cambiamento anche il governatore Paolo Frattura, attaccando la minoranza del PD, che prima ha votato per cambiare il bicameralismo e ora ha fatto marcia indietro. In relazione alla consultazione referendaria del 4 dicembre prossimo, nella Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la delibera delle autorità per le garanzie e nelle comunicazioni recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativa alla campagna per il referendum popolare. La riduzione del numero dei parlamentari, contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, più il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi. In arrivo per il Molise, 90 milioni di euro per il 2016, per la copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia. E' quanto emerge dal decreto fiscale firmato sabato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la che comprende, tra gli altri provvedimenti, quelli riguardanti la nuova agenzia che sostituirà Equitalia. Si attingerà in particolare al Fondo Sviluppo e Coesione, dal quale verranno assegnati anche 600 milioni alla campagna per far fronte ai debiti della Circom Vesuviana. In relazione ai debiti effettivamente riconosciuti, si stabilisce poi che l'EVA provveda a predisporre un piano per la definizione delle partite debitorie da attuare entro tre anni. Al Molise, 90 milioni per i debiti con Trenitalia entro fine anno. Inoltre, secondo quanto dichiarato da Frattura, saranno pagati i debiti che l'ASLEM ha nei confronti dei propri creditori. Intanto l'Aggiunta ha approvato lo schema di delegazione di pagamento tra Regione e ASLEM, proprio per consentire il pagamento ai fornitori di circa 800 che vantano crediti di valore particolarmente elevato. Torniamo a parlare dei lavoratori dell'azienda Trasporti Molisana. A seguito del mancato pagamento delle dovute retribuzioni, hanno indetto questa mattina un presidio presso la prefettura di Campobasso. Ma sentiamo il servizio. Una situazione sempre più insostenibile quanto lamentano i dipendenti della società Trasporti Molisana, che da mesi non riscuotono i dovuti stipendi. Il mancato pagamento delle retribuzioni al personale del trasporto pubblico locale da parte della ditta TMSPA e le mancate informazioni sulla situazione riguardante il previsto nuovo bando di gara ha portato i sindacati Faisa, Cisla, Cisle, Witte e Uga a protestare questa mattina dinanzi alla prefettura di Campobasso. Un presidio inevitabile è data la propagazione della situazione da mesi. Perché ci apprestiamo ad arrivare al Natale e quindi si prospetta che il contenzioso c'è tra l'azienda e la regione, ma che debbano pagare i lavoratori per un servizio che tra l'altro a noi risulta viene pagato puntualmente, mese per mese e non si riesce a far fronte al pagamento degli stipendi, c'è qualcosa che non va. Però il compito del sindacato arriva fino a poi diventa un problema quasi sociale, quello di garantire lo stipendio a chi ha lavorato e che la regione faccia la committente in maniera seria, perché ci sono i mezzi, ci sono le leggi che permettono di sostituirsi all'imprenditore che ne riesce a far fronte al pagamento degli stipendi. Un presidio nel quale hanno chiesto al prefetto Francesco Paolo Di Menna di intercedere con la regione con chi li dovere affinché si intervenga e si risolva il problema del ritardo del pagamento delle retribuzioni. Abbiamo chiesto al prefetto di intercedere con la struttura pubblica, con la regione, con l'assessorato ai trasporti per trovare una soluzione a questo mancato pagamento dei stipendi il 12 del mese, giorno in cui i lavoratori, gli autisti del TPL ricevono lo stipendio. Questa ditta non è stata mai puntuale e ci sono persone che a oggi devono avere due o tre mensilità. Vorremmo tanto, anche perché la legge lo permette, che la regione risolvesse questo problema cronico, ormai antico. E continuiamo a parlare di lavoro. Assunzioni a tempo indeterminato in netto calo nei primi otto mesi del 2016. I dati regionali confermano l'andamento nazionale. Il Molise è a quart'ultimo posto nella graduatoria nazionale. Sentiamo i dettagli. Le assunzioni di datori di lavoro privati nel periodo gennaio-agosto 2016 sono risultate 3.782.000, con una riduzione di 351.000 unità rispetto al corrispondente periodo del 2015. Nel complesso delle assunzioni sono comprese anche le assunzioni stagionali e quanto informa l'osservatorio sul precariato dell'Inps, secondo cui il rallentamento delle assunzioni ha riguardato principalmente i contratti a tempo indeterminato. Meno 395.000, pari al meno 32,9% rispetto ai primi otto mesi del 2015. Nei primi otto mesi del 2016, secondo l'Inps, sono stati stipulati 330.262 contratti a tempo indeterminato con gli sgravi contributivi previsti dalla legge di stabilità, il 40% dei contributi. Si tratta del 32,8% dei contratti rispetto al totale delle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato. I dati pubblicati dall'Inps relativi ai primi otto mesi dell'anno attestano in maniera inequivocabile il fallimento del Jobs Act per il sindacato CGL Molise. I dati regionali, infatti, confermerebbero l'andamento nazionale. Le assunzioni a tempo indeterminato in Molise passano da 6.277 del 2015 a 3.918 del 2016, registrando una variazione in negativo del 37,6%. Aumentano contestualmente i contratti a termine che da 7.570 del 2015 passano a 7.949 del 2016. Aumentano gli stagionali da 605 a 659, nonché gli apprendisti che da 171 passano a 270. A completare il quadro sono i dati relativi al numero di voucher venduti, che da 312.292 nel 2015 passano a ben 420.525 nel 2016. Preoccupazione d'esse, inoltre, il calo complessivo delle assunzioni che registra un meno 12,5%, portando il Molise al quart'ultimo posto nella graduatoria nazionale, eseguito da Abruzzo, Basilicata e Lazio. Carabinieri in azione durante il weekend, controlli in tutta la provincia di Sernia, eseguite numerose perquisizioni e accertate violazioni in materia di sicurezza stradale. Il bilancio delle operazioni è stato di 130 veicoli controllati, identificate 150 persone tra conducenti e passeggeri, 13 le violazioni riscontrate in materia di codice della strada, ritirate due patenti di guida e sottoposte a sequestro due autovetture, poiché messe in circolazione e prive di copertura assicurativa. 10 alcottese eseguiti per accertare un'eventuale guida in stato di ebrezza colica da parte dei conducenti, mentre numerose sono state le prequisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva. 15 pregiudicati attualmente sottoposti a misure cautelari o di prevenzione, nei cui confronti sono stati effettuati controlli sul regolare rispetto delle prescrizioni imposte dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza, infine eseguiti accertamenti amministrativi in materia igienico-sanitaria, presso otto locali pubblici di intrattenimento anche nel corso della notte. Torniamo a parlare di scuole. Buone notizie per gli studenti della Scuola San Giacomo degli Schiavoni, che dal prossimo anno potranno usufruire di un edificio scolastico nel loro paese, senza sottoporsi allo stress del viaggio. Oggi inoltre l'inaugurazione del polo intercomunale a Castelpetroso. Sentiamo il servizio realizzato. La Scuola di San Giacomo degli Schiavoni verrà presso abbattuta per far posto a un altro edificio scolastico. I lavori erano già stati appaltati, ma lungaggini burocratiche avevano messo a rischio l'intero finanziamento. Il Comune però è riuscito a sbloccare l'ultima tranche da 140.000 euro dei totali 890.000 e ha deliberato in Consiglio Comunale per dare finalmente avvio al cantiere. Ora non ci sarà bisogno di attendere la gara d'appalto e tutti gli altri adempimenti. La ditta di Curtis di Guglionese aveva già ottenuto i lavori e adesso potrà realizzarli appena avverrà la stipola del contratto. Il primo passo sarà la demolizione dell'edificio di Corso Umberto I, che sorge proprio di fianco al municipio. Il plesso scolastico è ormai inutilizzato da anni, in seguito a controlli che ne hanno accertato la mancata sicurezza in termini sismici. I bambini del paese da tempo sono costretti a spostarsi a Termoli o in altri paesi per seguire le lezioni. Dall'anno prossimo, se tutto andrà secondo i piani, potranno finalmente riaprire le iscrizioni sia per i bambini della scuola dell'infanzia che per quelli della scuola primaria. Oggi giornata positiva anche per il Comune di Castelpetroso, dove sarà inaugurato il Polo Intercomunale, che ospiterà anche gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di Santa Maria del Molise, Cantalupo nel Sagno, Rocca Mandolfi e Pettoranello del Molise. E si è concluso con grande successo il corso di formazione apistica organizzato dall'Associazione Produttori Apistici Molisani. Numerosi gli aspiranti apicoltori partecipanti che hanno superato brillantemente l'esame finale. Sentiamo i dettagli nel servizio. Si è concluso con un esame finale presso il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell'Unimo a Capovasso il corso per l'avvio di nuove imprese apistiche organizzato dall'Associazione Produttori Apistici Molisani. 54 gli aspiranti giovani e meno giovani partecipanti che hanno manifestato sin da subito un notevole interesse per il progetto di formazione apistica realizzato grazie alla straordinaria rete che il gruppo Volape è riuscita a tessere mettendo insieme operatori economici del settore, consulenti di primo livello, enti pubblici e strutture di ricerca. Dichiara il responsabile organizzativo Riccardo Terriaca soddisfatto del raggiungimento dei risultati ottenuti. Abbiamo percepito che il nostro messaggio è arrivato e dunque proseguiamo con maggiore convinzione nel nostro percorso di costruzione di una comunità apistica solidale, meritocratica e rappresentativa in grado di contribuire alla crescita del settore apistico con indubbi vantaggi economici, ambientali e sociali per l'intera moderna società rurale e non, ha concluso Terriaca. Nell'evento del 20 ottobre della riserva di Monti di Mezzo a Basso Girardi operatori e amministratori si sono confrontati sulla realizzazione di un nuovo modello di sviluppo che passa per il ricco patrimonio naturalistico, sull'agroalimentare e sul turismo sostenibile. Il grande e raro patrimonio di biodiversità del territorio alto molisano da tutelare e valorizzare e il filerouge da seguire per lo sviluppo del turismo sostenibile e di nuovi modelli agroalimentari. E' questo il mantra della strategia elaborata dal partenatario Gallato Molise che dando voce ai protagonisti del territorio ne ha recepito esigenze e potenzialità al fine di costruire il piano di sviluppo locale più adatto per rispondere al nuovo bando attuativo relativo alla misura 19 del programma di sviluppo rurale Molise 2014. E adesso vi vogliamo raccontare una storia, quella di Felice e voi potete aiutarci a realizzare il lieto fine. Sentiamola. Lui è Felice Guastamacchia e insieme alla sua gemellina bianca è nato lo scorso 10 agosto a Terlizzi, un piccolo paesino della Puglia. Una gioia immensa per mamma Valeria e papà Michele fino a quando al piccolo è stata diagnosticata un'epidermolisi bollosa distrofica, malattia genetica rara che colpisce soprattutto cute e mucose e può portare alla morte. Chi ne soffre a causa dell'estrema fragilità della pelle deve combattere ogni giorno con lesioni bollose che possono comparire anche in seguito a piccoli traumi, ulcere che guariscono con difficoltà e altre complicazioni spesso invalidanti. A Felice è così piccolo ma che sa già bene cosa significa la parola dolore e vengono riservate attenzioni secondo per secondo. Mamma e papà infatti devono cambiare continuamente le bende sugli arti del bambino per scongiurare qualsiasi tipo di infezione. Ed è così che papà Michele, Macellaio e mamma Valeria Casalinga trascorrono le loro giornate nella speranza di poter presto raggiungere gli Stati Uniti d'America dove precisamente nel Minnesota sarebbe possibile effettuare una cura basata sulle cellule staminali. Tutta la comunità di Terlizzi si è stretta così attorno alla famiglia Guastamacchia organizzando manifestazioni benefiche per ottenere quel milione e mezzo che serve per curare almeno inizialmente Felice. Non solo la Puglia ma anche la Campania e il Molise hanno adottato la triste storia di Felice organizzando punti di raccolta fondi. Nella provincia di Campobasso ben 15 quelli presenti. Anche l'amministrazione di Palazzo San Giorgio e l'associazione Campobasso Nord si sono rese disponibili e solidali. Inoltre proprio a Campobasso la referente dei punti di raccolta Barbara Comune che ha preso a cuore la storia del piccolo ha organizzato per la prossima domenica 30 ottobre al ristorante Amici Miei Vecchio Gandalf in Via Ferrari una cena per Felice a cui tutti voi potete partecipare. Basta un gesto per sentirsi e far sentir meglio. Rendiamo la vita felice. E cambiamo ora argomento. La programmazione teatrale della Fondazione Molise Cultura realizzata in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Molise si arricchisce della presenza del glorioso Teatro Italo-Argentino che grazie alla disponibilità del Comune di Agnone e del Sindaco Lorenzo Marco Vecchio consolida la vocazione a città d'arte del centro alto molisano. Primo spettacolo in cartellone domani martedì 25 ottobre alle ore 21 di scena in monologo per non morire di mafia di Pietro Grasso già proposta a Campobasso nell'ambito del progetto Legalità che vedrà protagonista Sebastiano Lomonaco per la regia di Alessio Pizzec. L'8 novembre sarà la volta di Luci della ribalta di Charlie Chaplin una produzione del Teatro Stabile di Trieste per la regia di Giuseppe Emiliani che si avvale di un casto con due grandi attori come Antonio Salines e Marianella Bargilli l'adattamento teatrale fedele e creativo è di Eleonora Zacchi. Maurizio Santilli invece porterà sul palco il 24 novembre il suo Io adoro la sintesi. Sarò. Il 6 dicembre sarà la memoria dell'immigrazione delle comunità morisane da filo conduttore allo spettacolo Non aprire che all'oscuro scritto da Flavio Brunetti. Napoli, chitarra e voce recita il musicale proposto il 16 dicembre mentre rispettivamente il 21 e il 27 gennaio Marco Polo è alla faccia vostra. Apriamo ora la nostra pagina sportiva. Apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio di serie ed vediamo insieme i risultati classifica dell'ottava giornata di campionato. Iniziamo dai risultati Campobasso San Nicolò 1 a 5 Mantelica San Marino 4 a 2 Monticelli Chieti è stata sospesa Olimpia Gnonese e Fermana 3 a 2 Pineto Calcio Alfonsine 3 a 2 Re Canatese Civitanovese 2 a 2 Romagna Centro Castelfidardo 1 a 1 San Maurese Iesina 0 a 1 Vispesaro Bastese Calcio 2 a 1 Passiamo ora la classifica Olimpia Gnonese 18 Mantelica 17 San Nicolò 15 Bastese 14 Fermana e Vispesaro 13 San Maurese Civitanovese Capobasso 11 Iesina 10 Alfonsine Romagna Centro 9 Monticelli San Marino Castelfidardo Pineto Calcio 8 Re Canatese 6 Chieti 0 E proseguiamo con il calcio di Serie D schiacciante sconfitta Casalinga del Campobasso con San Nicolò Teramo mentre al Civitelle si festeggia e Granata confermano la loro posizione in betta alla classifica del campionato di Serie D Girone F Sentiamo il servizio E' stata definita da molti una bella scoppola quella dell'ottava giornata di campionato dei Lupi il Campobasso sprofonda superato dal San Nicolò col pesante punteggio di 5 a 1 A memoria Duomo difficile ricordare i 5 gol subiti davanti al pubblico amico da parte dei Lupi soprattutto in casa Novelle ed Epifani scelgono il 4-3-3 per i rispettivi schieramenti i Lupi giocano in avanti con il temibile tridente composto da Sudant, Fioretti e Improta il Campobasso parte subito forte dopo due giri di lancette il traversone di Chimpala dalla sinistra è indirizzato per Fioretti il quale prova la conclusione al volo mettendo i brividi alla retroguardia abruzzese il San Nicolò alla prima azione offensiva passa in vantaggio gli abruzzesi sono galvanizzati dal vantaggio e al dodicesimo ci prova l'ex Trivento Bisegna il suo destro è deviato in calcio d'angolo da Palumbo i Lupi riordinano le idee trovano il pareggio al quattordicesimo minuto Improta nel tentativo di liberarsi atterrato in piena area di rigore il direttore di gara Catallo di Frosinone non ha dubbi e fischia il penalty dal dischetto va lo stesso Improta che indirizza il pallone sotto l'incrocio dei pali la gara torna in equilibrio i molisani non abbassano i ritmi al minuto 17 vanno vicini al sorpasso Fioretti in corna Maciotti salva i suoi deviando in calcio d'angolo il San Nicolò torna in vantaggio al minuto 39 Traini ben servito in area di rigore con un bel filtrante trova il tappin vincente per il gol dell'1-2 degli ospiti sui molisani la ripresa si apre con il San Nicolò che imposta una gara intelligente attende il campo basso coprendo bene tutti gli spazi in fase di possesso sfrutta la velocità dei suoi esterni i Lupi fanno difficoltà ad avanzare al cinquantottesimo minuto sono gli abruzzesi a rendersi pericolosi Palumbo è chiamato agli straordinari sulla conclusione di Stivaletta il portiere molisano rispinge con i pugni Lupo non pervenuto nella seconda frazione di gioco e così il San Nicolò mette a segno tre golli in otto minuti portando il risultato sul 5-1 in proprio favore il Triss arriva al 76esimo minuto con un pallonetto di Moretti che chiude una ripartenza veloce degli abruzzesi palla al centro e arriva il poker con Di Stefano che approfitta di un errore di Corbo prima di battere Palumbo il San Nicolò cala il pokerissimo all'85esimo questa volta è bisogna centrare l'obiettivo grosso una partita da dimenticare per il rosso-blu intanto al Civitelle Granata fanno faville contro la Fiermana e confermano il loro posto in vetta alla classifica sconfitta anche per la Chiamina al campo basso accusando il quarto K.O. consecutivo partita sfortunata contro i Lucani con ben tre pali colpiti da Capitan Pizzuto e Compani il quintetto locale inizia subito forte e si vide dopo un giro di lancette con una conclusione di Cavaliere respinto dall'estremo difensore Massafra migliore in campo del team di Grassano la risposta ospite arriva dopo 30 secondi con Zerenato sul cui tiro abile un difensore a opporsi con il corpo quel tanto che basta per salvare la porta difesa da Sari in campo bassani vanno vicino al vantaggio con Pescola servito da Pizzuto ancora il portiere ospite salva i suoi il finale di partita vede la Chiamina in campo basso tutta in avanti col portiere in movimento i Lucani ne approfittano e trovano un Ruben il terzo gol il signor prestito espugna capo basso per 3 a 1 per la Chiamina capo basso adesso due trasferte in quattro giorni sabato 29 ottobre si va alla volta di Ostuni martedì 1 novembre i rosso-blu giocheranno a Conversano e passiamo adesso all'eccellenza vediamo insieme i risultati e classifica della settima giornata di campionato iniziamo sempre dai risultati Pietra Monte Corvino capo di Pietra 2 a 4 Gambatesa Venafro 1 a 4 Termoli Cernia 0 a 1 Olimpia Riccia Cliternina 1 a 1 Alife Vasto Girardi 0 a 0 Sesto Campano Spinete 0 a 0 Macchia Treppini Matese 1 a 1 Campobasso 19 a 19 Guglionesi 0 a 3 Passiamo ora alla classifica Venafro 19 Treppini Matese 17 Isernia 16 Basto Girardi e Macchia 14 Guglionesi 13 Alife Campo di Pietra e Termoli 10 Gambatesa 9 Sesto Campano 8 Olimpia Riccia 7 Campobasso 19 19 Spinete 4 Criternina 1 Pietra Monte Corvino 0 Passiamo al campionato di promozione anche in questo caso vediamo risultate classifica della settima giornata di campionato Matese Vulcania 1 a 1 Baranello Santeliana 3 a 1 Bicca Ricerce Maggiore 7 a 2 Boiano 62 Castelmauro 2 a 1 Campomarino Molise 1 a 1 Frentanian Roseto 2 a 1 Maronea Real San Martino 1 a 0 Rocca Sicura Bois Ielsi 2 a 0 Passiamo alla classifica Boiano 62 Frentania 17 Vulcania Rocca Sicura 16 Campomarino 13 Matese 12 Bois Ielsi Molise 11 Roseto 9 Maronea 8 Baranello 7 Bicari 5 Santeliana 3 Castelmauro 3 Real San Martino 2 Cerce Maggiore 1 E continuiamo ora con la palla a volo, parte con il piede giusto anche in casa, l'europea 92 che batte Montele e ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo il successo a tee break ottenuto nella prima giornata sul campo dell'altino. Per la verità le sernine dopo aver cominciato bene l'incontro portandosi avanti nel primo set fino a 16-13 subiscono il recupero delle ospiti e vengono superate nel finale. Tutta tramunzica nelle altre tre fazioni di gioco in cui l'europea 92 pur partendo male sono state brave nel recuperare a metà parziale e conquistare i set. E questa era l'ultima notizia, il nostro appuntamento finisce qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio al meteo e vi auguro una buona giornata. Arrivederci. Il meteo è offerto da Da Gran Risparmio scoprirai la qualità e la freschezza dei prodotti scelti con cura per te. Inoltre troverai in esclusiva i detersivi alla spina, ecologici e convenienti. Da Gran Risparmio risparmi tu e risparmi all'ambiente. A Corso Bucci 54 a Campobasso. Previsioni del tempo per martedì 25 ottobre. Un campo di alte pressioni abbraccia le regioni di sud-est dando luogo ad una fase meteorologica stabile tra Puglia, Basilicata e Molise. Ne conseguono ampi spazi di sereno a tratti offuscati nelle ore più fredde da nobi basse o nebbie in sollevamento e diradamento al pomeriggio. Temperature indeciso, aumento e valori massimi molto miti per il periodo, ma vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 18, massima 23 gradi. Isernia minima 14, massima 22 gradi. Termoli, temperature comprese tra i 18 e i 20 gradi. Il meteo è stato offerto da Signora, dico a lei. A conseglie assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.